Questa manifestazione è il motivo per me per portare qua gli sponsor. Però poi si è reso conto, io direi che vale la pena di riapprezzare questa sequenza. Eccolo lì, chissà la moglie se è a casa. La faccio molto volentieri perché il Ferrari Club Italia mi invita a fare questa manifestazione. È il motivo per me per portare qua.